Da parecchi giorni, 49 persone salvate nel mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di ONG in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone. A tutti voi auguro una buona festa e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!